Cammino con il peso di catechi che non ho Cerco conforto nel respianso dell'oracolo Provo a risolvere l'enigma Ma il foglio è bianco e non indosserò Altro che il mio pianto Il nome della nostra band è molto semplice Noi abbiamo sempre fatto le prove nella Blue Room In una stanza blu, tutta blu Però blu scritto in italiano o all'inglese Blue come si scrive Ci sembrava un po' banale Volevamo un nome che suonasse un po' meglio Allora abbiamo deciso di usare Blue Room con 4 O Due sul blu e due sul room La band è nata tra i banchi della nostra scuola Tra i banchi della scuola che frequentiamo io Davide e il bassista È nata un po' per caso Le prime prove sono state proprio un disastro Io che non volevo andare perché avevo gli altri miei interessi Il bassista che si è addormentato sul divano E proprio anche da lì è nata una canzone Quindi è nata un po' così Un po' senza troppe pretese Però adesso sta andando avanti Oltre le nostre aspettative Il tuo sguardo Capace di corrompere anche il cielo La canzone dei Blue Room Diciamo che è spesso un compromesso Spesso un compromesso di scelte Di punti di vista Di preferenze di ascolto Io ad esempio ascolto generi un po' più Un po' più orientati al pop Rispetto a Davide che ha gusti A mio parere anche un po' più raffinati dei miei O rispetto al nostro bassista che preferisce gusti un po' più classici Il batterista che ascolta principalmente jazz E quindi è un mix di tutti questi elementi Testo o arrangiamento è indifferente Se nasce da una mia idea Nasce principalmente dal testo Perché mi piace giocare un po' di più con le parole Se invece parte da Davide È un po' più un lavoro di armonia E scelta musicale Quindi solitamente appunto È un mix delle due cose La mia mano Ho bisogno di Sentirmi più sicuro Per i Blue Room Suonare e condividere un progetto Dare vita alle nostre idee Ma soprattutto divertimento È proprio così che abbiamo iniziato a suonare insieme Per divertirci Per vedere cosa si provava a suonare in cinque e non da soli in casa Dopodiché abbiamo avuto le prime opportunità nei locali Che ci hanno concesso di avere i primi feedback E quindi di capire anche come andare avanti Avere insomma le prime direttive Quest'anno dopo molto lavoro è uscito il nostro primo singolo Edipo Che è uscito su tutte le piattaforme digitali Spotify, iTunes È stato veramente un bel lavoro Dalla stesura del testo All'arrangiamento Alla fase finale Che poi è uscita negli store digitali È una canzone che ha subito tante trasformazioni E diciamo È una canzone che rispecchia Un momento particolare di tutti i membri della band Un momento di forte cambiamento Che appunto ci ha portato a scrivere Edipo Ha avuto un riscontro molto positivo Sia per l'arrangiamento Che soprattutto appunto per il testo In cui noi crediamo molto Mi invitiamo a vederci ai nostri live A seguirci sui nostri social Soprattutto Instagram Ciao Soprattutto Instagram Soprattutto Instagram Grazie.